Buongiorno per tutti ragazzi, ecco squadra, nel momento un nuovo video dove ragazzi in questa volta siamo di nuovo tornati su Arrestone ragazzi siamo di nuovo dopo tantissimo tempo ragazzi Finalmente c'è un nuovo set di corse di luna gupa dove ragazzi questa volta analizzeremo con esattezza il mazzo di... beh del paradino ovviamente scusatemi Il Big Pal ragazzi con un nuovo update ragazzi, infatti questo tito, questo video verrà chiamato update del Big Pal sicuramente, poi non so magari cambierò Ecco qui la lista ragazzi, vi mostro esattamente la lista, questa qui come potete vedere non è cambiato praticamente nulla della scorsa espansione A meno che non c'è Baricata che devo dire molto forte perché comunque se hai i primi tuoi non abbiamo servitori che comunque è così che deve essere Perché abbiamo anche il segreto che ci serve per far tonare vita i nostri servitori, abbiamo Baricata che ci protegge da Iagro Ed evoca un 2-4 con provocazione e se non hai servitori te ne evoca un altro, quindi a 4 mani evocare praticamente un 4-8 devo dire che è molto forte In più si è aggiunto un altro servitore molto interessante, ha la nera in fuga che ci permette a fine del suo turno di infigia dove danni un servitore Praticamente a fine del turno tu distrugni un servitore casuale dell'avversario Che ragazzi non è male, contro un agro comunque spaccato un servitore, mettete board, è un 9-9 che può attaccare, spaccare un pezzo, ragazzi fortissimo Quindi ragazzi la lista praticamente non è cambiata dalle scorse volte, è sempre il mio big pal, il mio mazzo preferito Quindi ragazzi direi che per questa lista del mazzo è tutto, io vi ricordo di scrivere, commentare e mettere like se non l'avete fatto Per permettermi ragazzi ovviamente supportare e ragazzi cerchiamo di arrancare subito che siamo già 7 diamanti e panico per tutti ragazzi, cominciamo Ok siamo contro Uther, cavaliere, no sì siamo contro Illin, scusate E un'altra cosa che ho scoperto interessante è che Uther hanno cambiato finalmente la sua animazione, quindi ragazzi sono molto contento di ciò Ok considerando che potrebbe essere un agro, come no, come sì, io comunque penso di darmi tutto quanto Comunque non penso di giocare niente per i turni dopo, penso che magari giocherò questo per poi utilizzare magari volendo anche il corso della luna Visto che ce l'abbiamo, se ci abbiamo anche qualche segreto o qualche duello è sicuramente interessante Il nostro obiettivo principalmente è pescare duello e la magia da setto ovviamente, per fortuna, ovviamente non che abbiamo carte per poter pescare più di tanto Quindi è solo questione di poterci camperare fino a che non ne viene un turno in cui abbiamo dei servitori troppo grossi e l'avversario perde Passiamo ovviamente, ottimo, fortissimo, sicuramente due mana due tre, mette a zero lui Questa qua è la nuova carta che è uscita, veramente fortissima, scontato che non poteva uscire una carta sbroccata come questa Ok, gioca anche bacchettaia, giocherà magia da uno, non penso, farà sicuramente potere eroe, citerà del pezzo e poi andare a farci col due tre Il due tre è veramente fortissimo, adesso non so se effettivamente fare il giro, penso che farò il quattro mana, la barricata, almeno così la utilizzo Perché se no non penso che riuscirò mai più a utilizzarla, almeno trovo lo spot Quindi vai, andiamo di barricata, ecco avete visto ragazzi la potenza di questa carta, comunque già a turno tre abbiamo due due quattro Così con taunt che ci proteggono, per almeno un turno Per dopo andare volendo di nosdormus, però anche lì non abbiamo né duello e né la magia da sette Cosa qui interessante, devo dire, ah non ha attaccato, non ha fatto nulla, ok allora noi dovremmo provare ad essere, diciamo a buttare lui in questo modo Ad essere un po' più aggressivi e a guadagnare questo unico turno di vantaggio per fare qualche trade e andare a faccia fin dove possiamo Ok gioca a carnefice di villaccio, questo qua è un corrupted update demonante, carte nuove sicuramente, sì è un deck del genere Ok gioca anche lui, fortissimo, con peschiato tutto così in curva, giocherà almeno due o tre carte in modo da spaccarmi tutto quanto Ad avere il trade perfetto, mi sembra scontato, mi sembra la cosa più giusta Direttore va di Sky a penne, infigi un danno, hero power, da 5, traderà tutto perché un mazzo del suo calibro non può non riuscire a trader tutto quanto in un solo turno E poi non può non avere anche lo stesso turno, magari anche, come si chiama, teschio di guldan, che io gli do 8 mana, perfetto, ok ottimo Vabbè considerando che abbiamo la magia da 8, uh questa è forte, questa è molto forte perché io posso tradare tutto Però è anche da vedere, non volevo spaccare, vabbè vabbè che se volevo tradare qualcosa mi spaccavo comunque tutto quanto A sto punto faccio questa Se io direi che sia questa qui, spacchiamo, con questi qui distruggiamo tutto E gli spacchiamo anche il pezzo, ci curiamo di 8 Penso sia la cosa migliore da fare Volendo potremmo anche andare faccia, però dopo gli lasciamo in un quello lì che è un ciccione che non voglio lasciare in campo E poi fare volendo anche magia da 3 e peschiamo un servitore E in riferimento possiamo fare nulla, abbiamo 4 ciccioni in mano che non possiamo effettivamente usare Ma non è ancora detto l'ultimo Duello e la magia da 7 potrebbero ancora salvarci Abbiamo 20 di vita, abbiamo carte dell'enorme potenza Potremmo volendo anche un dopo buttare lui se non buttati i servitori In questo modo gli spacchiamo un pezzo e buttiamo segreto Secondo teschio di guldan, fortissimo, pescato così, devo dire, eccezionale Perché comunque ci vuole una certa anche abilità per poter pescare carte così in fila, così da abilità Non è per tutti, io non ne sono effettivamente ancora in grado Devo ancora sviluppare queste tecniche, ma ci sto riuscendo piano piano Va bene, ci fa 7 danni, va bene, un taunt, niente Uh, uh, ah, questa è forte, grazie Questa forse potrebbe salvarci Buono Ok, noi adesso dobbiamo fare così e buttare segreto Ok, se lui non ha il silence penso che la rimontiamo tranquillamente questa partita Ok, siamo riusciti un po', con questo servito, con questa giocata noi abbiamo stabilizzato la partita Se riusciamo a lui non fa cose strane, se non pesca quella che silenzia, penso che abbiamo vinto Ed inviene, a me, va, ok A me me lo può anche spaccare Vabbè, il fatto che non mi cure mi dà fastidio Però, sì, perché ha la magia da 2 che me lo distrugio Però basta che non me lo silenzia Ok, va bene Magia da 2, no Non so cosa, a me basterebbe anche che mi cure, in verità Però tanto dopo torno in invita i ciccioni Ok, penso che è andato tutto secondo i piani Abbiamo vinto, penso Sì Adesso me ne evoco un altro, che quando mi dare me ne evocherà un altro, quindi Sì, sì E noi adesso, dove in poi, adesso no E andiamo ad evocarci il 9-9 Ok, si butta anche l'arma Adesso qua, volendo, sono anche indeciso Però penso che buttare il 9-9 sia la cosa migliore Ok, lui ha spaccato praticamente tutto quanto Va bene Però lui si è consumato un sacco di pezzi E noi abbiamo ancora un 7-7 Ecco Uh, questo è interessante Dire di buttare lui Non so neanche quanto ancora servitori è nel mazzo Però penso di ancora averci Perfetto, ragazzi, abbiamo vinto Non penso che ci sia più niente che lui possa fare Avete visto, una giocata è bastata farci vincere Adesso abbiamo questo 9-9 che per lui sarà terrificante Perché se cosa lui lascia in campo verrà spazzata via Più 4 attacchette eroe Potrà usare la magia da 2 per fare due danni a tutti quanti 8, vuole arrivare a 9 Non so se l'ha peschiata Non so cosa voglio fare Ok, adesso è un turno dove lui si cura Però non può andare tanto oltre lui comunque Va bene Va bene, ma abbiamo vinto comunque A prescindere da tutto quello che lui possa fare Abbiamo fatto un turno veramente forte Lui è perso Se è bastato un turno di cura Evocare il ciccione forte Abbiamo vinto Basta Era semplice comunque Ok, ovviamente non ha giocato nulla Io penso che alla fine di colosso vado Così a prescindere da tutto quello che lui possa fare Tanto non aveva un altro tanto Almeno così lo secco sicuro Anche se avevo l'altro avrei seccato Ma almeno anche se lui mi volesse spaccare tutto Avesse un modo per recuperare Ha perso E ragazzi avete visto come abbiamo vinto E ragazzi io direi di andare alla prossima Ok, siamo contro Uther Araldo della Legge La versione Quello nuovo da 50 Ok, va bene Non so effettivamente che ancora Paladino ci sia Però il Paladino È sicuramente molto forte Adesso ci dà molto problemi Sicuramente è uno penso dei mazzi che ha più Paladino penso ora come ora E se è il mazzo più bilanciato Fino adesso Quindi Tra livello di removal Tra livello No, pescaggio no Però comunque è quello più bilanciato Buona Magera 7 Ok Ottimo, ottimo Va bene Abbiamo già comunque i turni selezionali Turno 3 Turno 4 4 ma che va da removal Mi aspetto un 1-3 Vai Grande Grandissimo Tempo Primo giorno di scuola In turno 3 Perfetto Ragazzi Questa Questa è la skill che vi parlavo prima Di giocare due carte di fila Così È abilità È skill È bravura Ragazzi Io non ce l'ho quindi Ragazzi Io dovresti andare a seguire lui Avversario Guardate le sue live Perché quanto fa i suoi video Perché sembra essere un'abilità Che tutti hanno È incredibile Vabbè abbiamo un turno 3 Predictato Penso che giocherò solo Nostdormus Quando avrò Anche un turno 2 D'effetto Ragazzi Questo mi sembra Uno di quelli partiti Che io debba perdere Non lo so Perché ho questo presentimento Vabbè Andiamo comunque A quella giornata Trovato Il ginotto Che è interessante Penso che Ok Vabbè Veramente forte Va bene Più Libram Mamma mia Ragazzi Ma cos'è lui Ma ragazzi Ma che abilità Che Che incredibile Potenza Ok Adesso qua Diciamo che sono Combattuto Perché Volendo Io posso giocare Anche questo E andare a sfruttare Lui dopo Però ovviamente Avrei voluto Avere Almeno un segreto Qualcosa Penso che Anderò di barricata E aspetto di Trovarmi almeno Le combinazioni Perché se riesco A fare le combinazioni Tra questo Segreto O la magia Che me lo sdoppia Penso di aver Principalmente vinto Quindi vorrei Un po' Attendere Tanto finché Ho i down Posso avvararmi Qualche turno In più Tanto una volta Che lui hai dieci mano Lì ha dieci mano Comunque Addirittura Turno 4 D'eccellenze In questo modo Tra da tutto Mi fa anche un danno Perché è giusto Che lui mi faccia Quel danno in più Che cambia la partita Va bene Ok Duello Potremmo Evidentemente Giocare anche duello Volendo Ce l'abbiamo Io lo giocherei Basta che non mi esce Una cosa sul pool divino Almeno posso Trattare tutto qua Buono lui Ok buono Ok lui Ovviamente Gli tornava in vita Ok buono Non è male Ovviamente Se noi gli diamo Dieci mano È meglio Perché comunque Dobbiamo Nozdormus È una carta Che è da giocare In modo Diciamo intelligente Se gli dai dieci mano Così alla cazzo Tu perdi Devi darglieli In modo sensato Io non glielo dati Perché non avevo Non ero così sicuro Di avere ancora Le carte per vincere Anche un turno 5 Perfetto Ha fatto questo paladino Incredibile Incredibile Io non penso Però ragazzi Abbiamo qua una consacrazione Che gli fa il culo Ovviamente lui è stato bravo Ha baffato quello lì No non so Ah no L'ha baffato così Per fare il trade Ok va bene Me lo traderà Ah ok Lui fa i suoi magheggi Me lo traderà Va benissimo Ok Beh mi fa quei tre danni Vabbè mi fa il suo solito danno Che comunque fa male Attacca anche l'arma faccia Lui è agguerritissimo Lui va tutto Io forse me la sarete Dunque comunque Per stabilizzare Non sia mai Qualche cosa Sempre utile l'arma Ok noi qua Come cosa facciamo Potremmo volendo Anche fare consacrazione Faremo consacrazione E Evochiamo due Reclute così Per paraccio Un altro paio di turni Per poi Dopo andare a evocare lui La magia questa qui Che gli spacchiamo Tutto quanto Ok lui Comunque A parte Fare ogni turno perfetto Cioè che adesso Potremmo anche giocarmi Un Libram E vabbè Tutto quello che vuole Sia l'arma Tutto quanto Però almeno Non sta Sta evocando solo pezzi A me Io comunque Mi va ancora tuttora bene Ok gioca a questo Farà Hero Power forse Ok Mi aspetto Un Hero Power Ok perfetto Sarebbe buono Se riuscisse a evocare lui Così man mano Cominci a spaccare qualche pezzo Qualcosa di Ovviamente li pesco tutti Però c'è ancora qualcosa Mi pare Ottimo Buono Ecco lui è interessante Lui È una campagna Che al paladino Da fastidio Io lo so Perché comunque Gioco solo paladino Ok Gioca anche un turno 7 Perfetto Che lui penso che Abbia giocato il mazzo Nel miglior modo possibile Non penso che c'erano altri modi Per giocare questo mazzo Come l'ha giocato lui Per lo meno Penso di avere ancora Eh sì Lui ha provocato È bello Ma che vuoi attaccare Ma levati Ok Cosa fai Equality Presumo La umana ci sta Sì infatti Equality Va bene Scontato Va bene C'ha tutto lui Vabbè andiamo Prossimo di lui Penso che Uh Attenzione Si prende Ah Si prende 10 danni in faccia Tra da tutto Interessante Uh Questo è forte Mi dai un altro pezzo Buttiamo di segreto Va bene Pacca 177 Ottimo Ok ragazzi Possiamo recuperare È stata un po' lenta Questa ripresa Però si è già giocato Ancuno Equality Abbiamo un 9-9 Contante Che alla fine Tu non mi spacco un pezzo E che se anche Mi ammazzo C'è il segreto E mi torno in vita Io penso Che tu no dopo Giocherò comunque Di nuovo lui O forse Per stare più sicuro Giocherò Prototrago Comunque Attenzione Gioca così creato Da Forza Luce Cosa mi gioca È ovviamente Fortissimo Qua la skill based Non manca mai Ok ragazzi Questo qui Beh Questo qui Penso sia uno degli avversari Più temibili È quegli avversari Che ha culo Ha skill Based Ha tutto Lui non gli manca Essenzialmente niente Quindi Ok va bene Uh Fortissimo lui Fortissimo Questo è interessante Penso che andrò Di questo qui Ma lo sdoppio Eh Vado ad attaccare lui Ok buono Così almeno Questo mi piace Vabbè torno in vita Non mi cambia Essenzialmente Quattro Penso che andrò A giocare lui Do scuro divino a lui E mi evo con le reclute Così sono allo stesso tempo Protetto E io Posso anche volendo Spaccare i due servitori A meno che non vanno Tutte e due Sull'8-8 Tutte e due Sull'8-8 Vabbè Almeno diciamo Gli 8-8 scuro divino Puttiamola così Dai Non è male Comunque Non è male Perché lui C'ha quei pezzi Che deve assolutamente Spaccare Perché sennò Sono un palo Al culo per lui Assurdo Anche quell'alto 9-9 Lui Ah ecco Torna anche in vite C'è da dire E non ha tanto Questo è interessante Perché non può Tadarmolo Che non abbia consacrazione Che mi pare Non l'abbia ancora usato Sarebbe ottimo Pescare la magia Che ci fa curare Così saremo al top Lui potrebbe ancora giocare Lui ha giocato tutto quanto Lui è un giocatore Perfetto Lui è Buono che ha già giocato Anche però E quality Quindi Cosa sta facendo Ah Libran se lo baffa E me lo spacca Va bene Va bene Ah qua ha fatto un errore Avevo dovuto giocarlo Dopo il 4-2 In questo modo Non gli si distruggiava il tipo Va bene Ah ma io il 9-1 Cercherò di tenermelo in campo Il più possibile Perché lui è veramente Fortissimo Lui è veramente Una carta che Al big pal Dà veramente tanto valore Ok ovviamente Non passa neanche Questo greggio Signore Ok Penso che le nostre giocate Siano abbastanza semplici Andiamo a uccidere lui Volendo potremmo anche Fare così Spacco lui Attacco lui E ci metto un bel taunt Così per sicurezza Da qualsiasi cosa E gli facciamo Dove danni faccia Il pezzo Gli lo spacchiamo Così non dobbiamo neanche Tradarlo Fortissimi ragazzi Penso che abbiamo vinto Può ancora curarsi Può ancora fare cose Però comunque Lui è in difficoltà Perché avendo quel 9-1 Che tu gli duni Fa 9 danni Anche se mi butta un tanto Con il scuro di vino Io posso spaccarmi un pezzo E poter andare avanti dopo Quel 9-1 Vuol dire un pezzo Che lui tutte le volte Deve sacrificare E che io Non devo attaccare Con i miei pezzi Che sono la mia unica bola Quindi è veramente forte E ragazzi Il nostro avversario Anche lui si ritira Mamma mia ragazzi E direi che per questo video è tutto Io spero che il video Vi sia piaciuto Vi ricordo di scrivere Commentare E mettere like Che ragazzi Fa sempre piacere Quindi ragazzi Panico per tutti Ragazzi Ciao